Fino al prossimo 2 aprile è visitabile al MEIC, spazio espositivo di Udine, la mostra Peripheral Memories, ovvero Memorie Periferiche, che attraverso espressioni dell'arte contemporanea vuole valorizzare il ruolo socio-culturale che alcune imprese e realtà produttive hanno avuto nella storia recente del Friuli Venezia Giulia. L'associazione denominata Io Deposito, ideatrice e realizzatrice del progetto, in sinergia con diverse imprese del territorio e amministrazioni comunali, ha coinvolto otto artisti italiani ed internazionali che, dopo l'esperienza di residenze artistiche nelle aziende direttamente coinvolte, hanno creato opere capaci di esprimere la memoria collettiva dei luoghi esplorando il fitto intreccio che si stabilisce tra collettività, territorio e tessuto produttivo. Creazioni d'arte visiva, installazioni e live performance. Ogni lavoro è frutto di una profonda ricerca negli immaginari collettivi dell'industria made in Friuli Venezia Giulia. In esposizione le opere e le installazioni di artisti sloveni, olandesi, serbi, polacchi e australiani e naturalmente italiani. Per assistere alle performance live è necessario prenotarsi con una mail a prenotazioni at iodeposito.org, indirizzo utile anche per la prenotazione di visite guidate. Accesso e visite sono completamente gratuite.